È passato un anno dall'inizio della guerra in Ucraina. Un anno. E la situazione non è migliorata. Anzi, si è aggravata perché il popolo è stremato, perché in molte parti non c'è più corrente e perché è arrivato l'inverno. E l'inverno porta guai. UNHCR sta cercando un anno e continuerà di essere accanto alla popolazione, aiutandoli nella cosa più semplice, la sopravvivenza. Teli, coperte, stufe, generi di prima necessità. Puoi dare una mano anche tu. Basta mandare un sms o una chiamata al numero solidale di UNHCR. È un piccolo gesto, so che è un momento difficile per tutti quanti, ma per loro di più. Diamoci una mano.